ciao a tutti benvenuti sul mio canale colgo l'occasione oggi per mostrare a chi mi segue un altro uno dei miei pezzi insomma uno a cui tengo anche in particolare particolarmente l'ultima volta vi ho fatto vedere il coltello originale first blood prodotto oggi dal lille knives costruito da niley oggi vi voglio presentare questo coltello questo coltello non è altro che il capostipite di tutti i coltelli da sopravvivenza in realtà e parliamo stiamo parlando del rand al 18 appunto quando si sentono discorsi dove il coltello di rambo è un coltello scenico creato per il film in realtà e quindi quella tipologia è praticamente è stata fatta questa tipologia dei coltelli a manico cavo solo per il cinema però con questo video che possiate che possa venire appunto alla luce la realtà dei fatti e cioè che non sono coltelli coltelli a manico cavo fatti per il cinema o cinematografici o spettacolari come si dice che però non servono a nulla questo qui è un coltello che è stato progettato nel 1963 durante la guerra nel vietnam è stato prodotto dall'azienda randall in collaborazione con un capitano medico militare che si chiamava il capitano in gramma che operava sugli elicotteri quindi questa è una stata praticamente una modifica di un altro coltello storico randall 14 che ha accompagnato molti soldati nel vietnam e questo questo medico militare appunto fece questa richiesta contatto la randall chiedendo di poter creare un coltello robusto che un coltello da sopravvivenza che però potesse essere poteva essere utile appunto in caso con l'elicottero diciamo fossero si fossero dispersi in territorio ostile nella natura e potevano essere in grado di sopravvivere con poca attrezzatura appunto tra cui il coltello che che era diciamo sempre presente e da lì la randall iniziò a fare dei progetti e testarli provarli modificò più volte il progetto è stato modificato più volte perché inizialmente era così e il codo lo arrivava fino in fondo con manico questo tubo questo tubolare di acciaio e appunto il capitano aveva chiesto di poter stivare all'interno piccoli utensili come fiammiferi pastiglie potabilizzatrici medicinali una bussola per l'orientamento tutto quello che piccoli oggetti che però in determinate situazioni di emergenza possono risultare a mio dire determinanti perché se pensiamo solo anche all'importanza di una bussola e quindi sapere verso che direzione ci si stava spostando magari quando l'elicottero è stato abbattuto e poi appunto con la bussola a capire dove doversi dirigere successivamente e capite l'importanza insomma le pastiglie potabilizzatrici perché magari alcuni passavano giorni prima di poter essere ritrovati o comunque raggiungere un punto di presenza di altri soldati e quindi permetteva appunto di poter di poter magari purificare l'acqua oppure dei medicinali per un primo primo intervento qualcuno parlava ho letto che parlava anche di morfina che comunque per i militari era importante e tutta un'altra serie di piccoli strumenti che possono entrare qui che adesso lo sto da un piccolo bisturi per drenare piccoli ascessi a del filo degli ami da pesca a delle pinzette per rimuovere delle spine o materiale da alcune ferite infette che poi si potrebbero si potevano infettare insomma questo coltello è stato progettato per questi usi è stato usato ampiamente continua ad essere usato la sega è una sega particolare una sega che è stata progettata per i velivoli quindi la lamiera sottile non è una sega per legno quindi sicuramente non è una sega adatta a tagliare o intagliare il legno questo no è un coltello con una forte componente da combattimento il controfilo superiore leggermente affilato e quindi appunto anche questa forma diciamo particolare a punta di lancia tra virgolette che gli è ottimi metodi di penetrazione spesso 6 mm quindi molto robusto ecco quando si parla di robustezza di questi coltelli mi viene un po da sorridere perché questo qui in particolare un modello in acciaio al carbonio o 1 praticamente il codolo e l'ho appurato io misurandolo arriva e in più ho chiesto anche conferma la randall questo è il pomello dove all'interno inserita una bussola perfettamente funzionante un pomello e un ottone molto pesante il codolo mi chiesto anche conferma la randall entra praticamente a questa altezza quindi qui il codolo del coltello entra all'interno si stringe entra a questo livello qui quasi a metà coltello quasi a metà manico praticamente quindi questo il manico è fatto con un tubo di acciaio messo a pressione poi con della resina epossilica intorno a riempire è tutto saldato lama manico e guardia insieme con una saldatura particolare la saldatura di randall quindi capite bene che prima che questo manico questo raccordo ceda probabilmente si spezzerà il coltello in qualche altro punto insomma no oppure non non questo questo sistema qui lo rende robusto come un coltello identang forse anche di più a parer mio perché se consideriamo un coltello identang con un codolo che si stringe e i rischi di cuoio attorno codolo lungo che arriva qui ma comunque di una certa di un certo spessore comunque con dischi di cuoio con le forze eccetera se è sottile o è ugualmente robusto ma questo sistema qui sinceramente non non lo trovo assolutamente che possa rendere il coltello più debole di un coltello identang classico quindi parlo di lo confronto con coltelli sempre nella sua nella loro categoria cioè a codolo nascosto non parlo di full tank quindi praticamente che poi erano i coltelli più antichi più usati i coltelli in origine erano a codolo nascosto e da anche molto comfort quindi praticamente questo coltello a parer mio è estremamente estremamente robusto viene usato tutt'oggi da da molti appassionati molti li tengono in collezione per i coltelli perché i coltelli randall comunque sono pezzi pezzi di storia anche no vengono realizzati completamente completamente a mano artigianalmente con dei tempi di attesa se si fa un ordine che attualmente uscirano dai dai cinque sei anni è un coltello questo qui estremamente bello anche il arriva molto bene affilato affilatissimo anche il fodero è fatto un'opera d'arte praticamente in cuoio diciamo tra nel mondo della coltelleria probabilmente tra i più belli che ci sono tra i meglio realizzati doppia cucitura cuoio di altissima qualità a una taschina dove è contenuta una pietra per affilare questo coltello appunto è fatto come era stato fatto quel coltello richiesto dal capitano ingram poi ovviamente sono state aggiunte delle 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 migliorie delle particolarità ad esempio questo alla zirinatura per l'originale era un tubo d'acciaio non aveva questa zirinatura molti c'è ci alloggiavano del paracord attorno per aumentare il grip la guardia nottone e questo qui è stato proprio il capo stipite di tutti i coltelli sulla scia dei coltelli da sopravvivenza a manico cavo quindi è da lì poi che si è ispirato jimmy lille quando rambo quando stallone gli ha chiesto il coltello un coltello da sopravvivenza ok quindi non ancora sempre che sento spesso la confusione dire coltelli a manico cavo sono nati dopo il film rambo per questioni economiche per fare soldi perché il boom no questa questa è la storia questa è la verità il resto sono supposizioni fatte da chi non conosce realmente la realtà poi che delle copie di coltelli a manici cavi se siano state fatte copie economiche deboli fragili non adatte a un uso sono pienamente d'accordo e questo è vero però i coltelli fatti per essere utilizzati da professionisti anche a manico cavo erano stati studiati bene e per per essere usati realmente e lo hanno dimostrato perché sono stati usati vengono usati tutt'oggi e hanno dimostrato anche la loro utilità che comunque questo coltello è un modello che non è non ha mai tramontato non è mai tramontato insomma è stato usato e viene ancora usato da da molte persone quindi ecco ci tenevo appunto a l'ultima volta vi ho presentato il il manico cavo probabilmente più famoso e oggi era diciamo doveroso mostrarvi il manico cavo il capo stipide quello da cui tutto ha avuto origine di coltelli da sopravvivenza spero che il video vi sia piaciuto se avete domande fate pure sotto i commenti vi mando un saluto e ci vediamo al prossimo video